Onorevole Giorgia Meloni, prego Presidente. Dunque la ringrazio Presidente, ringrazio tutti i colleghi per i loro interventi, le ringrazio anche per la solidarietà. Su quanto è accaduto non ho nulla da aggiungere, davvero mi colpisce che un gesto del genere in un'aula come questa avvenga nel giorno in cui ricorre l'anniversario dell'omicidio di Marco Biagi. Anche io voglio unirmi a quello che il Presidente Casini ha detto con un grande messaggio di vicinanza, di solidarietà per la famiglia di Marco Biagi, un servitore delle istituzioni, un servitore dello Stato che ha pagato con la vita la sua disponibilità verso le istituzioni. Detto questo io sarò parecchio breve, Presidente, non ho moltissime cose da dire in replica, anche insomma se ho trovato un dibattito sicuramente ricco di spunti, soprattutto ricco di molti elementi di condivisione anche trasversali in quest'Aula, sono per me molto importanti, chiaramente più è ampio il consenso che si può rappresentare sui grandi temi di politica internazionale, più l'Italia può presentarsi forte nei consessi nei quali opera.